Poche parole devono parlare i fatti, è così che si risponde nei momenti più difficili di una stagione, lasciando al minimo i proclami e le parole e lasciando parlare invece le prestazioni sul campo. L'ha fatto Forlì che dopo la settimana più brutta è riuscita a risollevarsi e riscattarsi in quel di Verona, l'ha fatto anche Lugo in una settimana difficile, l'ha fatto meno le altre romagnole, però a Panorama Basket qui sì che è il regno delle parole e le parole stasera le useremo tante per analizzare il momento delle nostre squadre romagnole, il tutto dopo la sigla per una intensissima puntata di Panorama. State con noi. This girl, this beautiful girl This man, this beautiful man, he's got this mixed up emotions I want it, can't have it Oh, I can hardly stand it Oh, what's a man to do? Oh, I can hardly stand it 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 Buonasera gentili telespettatori e cari amici appassionati di pallacanestro, ben ritrovati a Panorama Basket per questa puntata davvero ricca di stimoli, contenuti e di previsioni anche sul futuro perché noi abbiamo sempre la nostra sfera di cristallo nella quale leggiamo e lo facciamo anche questa settimana assieme a una splendente Francesca Piccari. Ciao Francesca. Ciao Enrico, buonasera a tutti e benvenuti. Oh, allora puntata come dicevamo ricca perché lo andiamo subito a vedere Francesca che si tiene compagnia questa sera, dai non perdiamo tempo. Sì, infatti abbiamo grandi ospiti perché con lui parleremo un po' di se stesso ma soprattutto della sua Forlì e di chi sto parlando, beh l'avrete visto nei nostri social, sto parlando del centro della pallacanestro Forlì, Kenny Lawson, buonasera e benvenuto. Grazie, grazie per avermi invitato. Grazie Kenny di essere con noi. Non trascureremo però Ravenna, infatti andremo ad analizzare il momento che sta vivendo e lo faremo assieme a Luca Bolognesi di Ravenna a 24 ore. Buonasera e ben ritrovato. Buonasera a voi, è sempre un piacere essere qua. Grazie anche per noi Luca. Un'analisi accurata e attenta la faremo anche di Forlì e non solo e questo lo faremo insieme a Valentino Piolanti di Forlì. Buonasera e ben ritrovato. Buonasera a te. Ciao Valentino, solo lei però saluti. Sì, sì, perché io sono un po' così. Hai fatto bene, bravissimo. Ho sempre piacere. Non ci fermiamo qui però Francesca. Eh sì, infatti perché? Perché noi aspettiamo di leggere i vostri messaggi che ci invierete al numero 334-7692087 tramite messaggi Whatsapp. Però non solo, vero Enrico? Esatto, perché abbiamo prima di tutto una telefonata importante durante la trasmissione. Oh sì, assolutamente. Avremo infatti un ospite a telefono che è Gianluigi Galetti, allenatore del basket Lugo. Esattamente. Poi dopo, come tutti i martedì, noi sondiamo anche le vostre opinioni attraverso i nostri social, ovvero attraverso Instagram e quindi questa settimana, Francesca, cosa chiediamo? Beh, questa settimana Enrico abbiamo deciso di analizzare una delle sfide più importanti che si giocherà prossima settimana. Sto parlando di quella tra Fortitudo e Treviso, il cui risultato potrà chiudere o riaprire la corsa alla promozione diretta in Serie A. Per cui quello che vi chiediamo è questo. Secondo voi, dopo la gara di domenica, il primo posto potrà considerarsi già segnato oppure può essere ancora conteso? Esatto, per questo che dicevo guardiamo un po' con la sfera di cristallo nel futuro, ne parleremo anche con i nostri ospiti, non solo con la vostra partecipazione al sondaggio. Dunque, tanti temi, Francesca, ora andiamo a iniziare a vedere cosa è successo durante il fine settimana sui campi di gioco, quindi una giornata importante era quella che si disputava sia in Serie A2 che in Serie B. Sì, infatti la seconda giornata di ritorno conferma il dominio della Fortitudo che vince nettamente il derby contro Imola e ora affronterà lo scontro diretto con Treviso, forte di ben sei punti di vantaggio. Prova a tenere il passo delle grandi Monte Granaro che in casa interrompe il buon momento di Ravenna, ma l'impresa della settimana è tutta di Forlì, che priva di Melvin Johnson va a Verona e sfogge una prova superba, comandando dal primo minuto e portando a casa due punti d'oro. Così come importanti sono quelli che in coda conquistano Cagliari su Roseto e Cento nel derby con Ferrara. In Serie B fa festa all'ultimo secondo Lugo, che con una tripla da metà campo di Serravalli sconfigge Ozzano, mentre perdono sia Tigers che Faenza. I Cesenati sono senza gli infortunati Raschi e Papa e non gli basta l'esordio di Frassineti per fare punti a Lecco, ma di questo i Raggi Solaris non approfittano venendo sconfitti a Padova. È il terzo KO consecutivo e ora su Faenza sale il pressing delle inseguitrici. Esattamente Francesca, lasciamo proprio questa schermata con la classifica, perché come dicevi tu, vedete in Serie B Faenza è la terza sconfitta consecutiva e adesso appunto Padova e Orzinuovi premono alle spalle e per Faenza urge riscattarsi il prima possibile perché a questo punto è sotto negli scontri diretti, per differenza Canestri o sia con Padova che con Orzinuovi e quindi bisogna assolutamente per i Manfredi cercare di ritrovare vantaggio perché altrimenti il secondo posto rischia di essere conteso dalle inseguitrici. Detto questo, però, sui risultati di questa settimana noi, come sempre, abbiamo chiesto di scommettere a voi che ci seguite così numerosi da casa, lo facciamo con la nostra schedina Francesca e anche questa settimana tantissimi avete dato le vostre opinioni, i vostri pronostici sulle partite del weekend, perché? Perché siete allettati da premi meravigliosi, no? Sì Enrico, infatti fanno gola i premi dei nostri amici Marco Evito, ovvero salsicce o hamburger a scelta, un portachiavi e una bottiglia di vino. Marco Evito è la macelleria gastronomia che trovate in via Carossa 58A a Forlì, dove andare a prendere carni di grandi qualità e non solo perché ci sono tantissimi prodotti, come dicevo, enogastronomici come formaggi, vini e tantissimo altro. E com'è andata questa settimana? Sono davvero curioso. E' andata che voglio creare un po' di suspense stavolta perché parto dal terzo, dal terzo classificato con 50 punti, che è Pier Antonio Saporetti e poi vado salendo al secondo posto dove troviamo con 51 punti Niccolò Valgimigli e poi Enrico, tu sai chi è arrivato al primo posto? Io ho un vago sospetto di chi è arrivato al primo posto ma attento di saperlo da te. Beh, in realtà sarebbero due i vincitori, però uno soltanto è quello ufficiale perché è il primo che ha pronosticato, quindi il vero vincitore di questa classifica con 52 punti è Luca Mancini e l'altro, l'altro chi è? L'altro è Enrico Pasini. L'altro è Enrico Pasini, il sottoscritto che è arrivato secondo e quindi cosa deve fare? E quindi devi ritentare, sei andato molto vicino ma devi ritentare, mentre invece il nostro amico Luca se ci sta seguendo ci deve mandare la sua mail al nostro numero Whatsapp e a questa mail noi poi gireremo il coupon per andare a ritirare il premio. Eh sì, lo dovrò fare io alla fine, gli porgerò il coupon per ritirarlo lui il premio. Benissimo Francesca, grazie e bravo Luca, assolutamente. Oh, detto questo, andiamo a parlare subito di quello che è successo a Verona e lo facciamo appunto con Kenny Lawson perché a Verona Forlì sfogge una prestazione straordinaria, perché usiamo proprio l'aggettivo giusto, e ottiene due punti insperati. Kenny, come si fa a passare da una prestazione obiettivamente negativa della squadra come quella con Cagliari a una prestazione superlativa come quella a Verona? In soli sette giorni. Beh, credo che sia tutto a concentrazione. Nel basket ci sono queste giornate buone o meno buone, ma la cosa più importante è come si risponde, come si reagisce. A volte ci sono delle grandi partite come Contra Fornitudo che poi non vinciamo, oppure possiamo giocare le partite bruttissime contro Cagliari, ma la cosa importante è sapere come rispondere dopo i momenti buoni e cattivi. Abbiamo risposto bene, abbiamo avuto tanti infortuni e tanti problemi, ma questa è la cosa importante e va oltre il fatto di vincere o perdere. Era stata una settimana difficile per ragioni fisiche, più o meno tutti sono stati poco bene, prima del match con Verona. È stata una settimana difficile anche dal punto di vista del gruppo, dello spogliatoio, quella che ha preceduto la vostra vittoria di domenica? No, andava tutto bene, abbiamo capito cosa non andava, abbiamo cercato di sfruttare anche questa cosa, non possiamo focalizzarci troppo su una sconfitta, dobbiamo lavorare, abbiamo tanti giovani che si sono presi anche la propria responsabilità, hanno fatto un passo in più nell'allenamento, hanno dato tutti se stessi nella partita. È stata una grande vittoria di squadra, non solo da parte dei veterani, ma anche proprio dei giovani. E questo perché abbiamo lavorato molto bene nell'allenamento per tutta la settimana. E cosa ti è piaciuto soprattutto, Kenny, della prestazione di Forlì a Verona? Perché è una prestazione che ha portato due punti che sono anche molto, molto importanti adesso per la classifica. Una vittoria importantissima, sì. Mi è piaciuto proprio come siamo rimasti uniti in tutto ciò che abbiamo fatto. Non abbiamo giocato forse in maniera straordinariamente bene, ovviamente eccetto Marini, ma comunque siamo stati molto solidi se in attacco, che in difesa, sui rimbalzi, in tutta la partita. Abbiamo giocato sempre con la stessa intensità, con la stessa concentrazione per tutti i 40 minuti. E questa è stata una delle prime partite in cui siamo stati rimasti concentrati dal primo all'ultimo minuto, quindi diciamo che è stata una partita bellissima, secondo me. Eh sì, Kenny, hai citato Marini, 34 punti, di cui 26 nel secondo tempo. Trovami un aggettivo per descrivermi la prestazione di Per Paolo Marini. Curry. Curry. Sensazionale, comunque. Outstanding. Yeah, yeah, it was a great performance. Sì, sì, una prestazione grandissima. Oh, a proposito, Valentino, Forlì, lo dicevamo, si è presentata senza Melvin Johnson e in condizioni fisiche difficili. Allora è proprio la testa che fa la differenza. Sicuramente la testa conta tantissimo a tutti i livelli e soprattutto quando vieni da una settimana dove tutti hanno criticato perché hai giocato sotto tono la partita contro l'ultima in classifica, la testa conta tantissimo e la squadra ha dimostrato di averla perché venire a Verona e giocare una partita sempre sintonizzata su quello che bisognava fare per portare a casa il risultato voleva dire avere una testa giusta dal primo al quarantesimo. L'approccio ha fatto la differenza? Forlì ha approcciato nel modo giusto la gara? Sì, eravamo io e te, eravamo a Verona, l'abbiamo vista gomito a gomito per così dire e ci siamo subito resi conto che Forlì era andata in Veneto con l'intento di fare, dimenticare la prestazione sotto tono avuta con Cagliari e c'è riuscita e avevamo il dubbio su come avesse potuto reagire nell'arco dei 40 minuti e la squadra di Valli ha dimostrato di essere sempre sul pezzo per così dire e quindi non ha avuto cali di tensione. Allora ti faccio, diciamo così, facciamo un giochetto Valentino. Se uno avesse detto a inizio, diciamo, giorni di ritorno Forlì da copione si prende due punti con Cagliari e perde a Verona è successo l'esatto contrario, forse è meglio così? Sicuramente dal punto di vista mentale della squadra la vittoria con Verona che Dalmonte ha definito una competitor di Forlì ribaltando l'assunto è più importante della possibile vittoria con Cagliari se poi avessimo perso la partita successiva con gli Scaligeri. Perché adesso c'è il 2-0 negli scontri diretti e Forlì dunque torna quarta al momento in classifica in virtù proprio di questo doppio vantaggio. Chiedo anche a te di descrivermi la prestazione di Pierpaolo Marini e dico a voi, che siete a casa e ci guardate, vero Francesca, che noi su Pierpaolo Marini abbiamo preparato una clip speciale in cui abbiamo messo insieme tutti i 34 punti dell'ala bianco-rossa e prima di salutarsi, dopo aver salutato i nostri ospiti, prima di chiudere il programma, ve la mostreremo. Marini. A tratti irreale. Sembrava veramente venuto da un altro pianeta. Assolutamente. Ascolta Luca, passo da te, perché su Marini una domanda da voglio fare anche a te. Questo giocatore italiano di questo livello in un campionato di Serie 2 si poteva pensare che potesse giocare bene perché veniva da Iesi, una stagione molto importante, che fosse un giocatore in grande crescita. Expluà del genere, però lo collocano secondo me già su un'altra dimensione. Da qualche anno sicuramente è un giocatore in grande crescita. Quest'anno a Forlì, a parte credo forse una partita, quella dopo l'infortunio, ha giocato fuori categoria come un americano in più tutte le partite e direi che la sua dimensione potrebbe anche essere la Serie A. Chiaro che in Serie A non può fare l'ala piccola, ma deve riuscire a giocare guardia, quindi a difendere sulle guardie americane di Serie A1. Però una sua dimensione la può avere. Questo mi porta a collegarmi al discorso Ravenna, perché Ravenna, adesso non parliamo proprio della partita, ne parleremo della partita di Montegranaro, la differenza che ci può essere in questo momento tra una squadra come Forlì che lotta per le prime 4-5 posizioni e Ravenna che lotta per rimanere dentro i play-off, e finora c'è stabilmente, potrebbe essere un giocatore alla Marini, nel senso due americani, Ravenna li ha, Smith che segna tantissimo, e Ayrston che è un centro molto solido, però serve la terza punta. E questo forse fa fare il salto di qualità. Sì, la terza punta al momento dal punto di vista delle statistiche è la Ghana, che però non dà l'idea di essere un leader o di prendere in mano la situazione. È molto fuori dal gioco, spesso, e a volte quando forza, forza nel modo sbagliato. Anche Ayrston non è un americano che è una punta, quindi sostanzialmente il problema di Ravenna è che la punta è una sola. È una sola. Mentre Forlì magari sono tre, a volte ne sale una quarta, che fa un Buonaccini o un De Laurentiis, che comunque una volta a turno, Donzelli, hanno fatto delle buone partite. Però Ravenna, settimo posto c'è, nonostante la sconfitta di Porto San Gioso con Montegranaro, su cui parleremo tra pochissimo, è fondamentalmente il range di classifica che tu ti aspettavi del giallorosse. Sì, in molti nella prestagione avevano anche messo Ravenna a livello dei quarto, terzo, quarto, quinto posto. Probabilmente è stato un po' sopravvalutato il roster, soprattutto più che dallo staff, che non ha mai dichiarato di puntare al secondo posto, più dalla stampa è stato sopravvalutato il roster, e quindi il settimo posto è la sua dimensione. C'è qualche problema dal punto di vista del gioco, però i risultati alla fine sono arrivati e la posizione di classifica è quella corretta. Sul gioco parleremo tra pochissimo, però prima Francesca dobbiamo andare a salutare i partner di Panorama Basket. Da chi partiamo? Partiamo dai nostri amici di Robinson Pet Shop, Enrico, perché loro non sono un semplice negozio per animali, ma un punto di riferimento in cui trovare i migliori alimenti per cani e gatti e i consigli di un personale esperto e qualificato. Robinson Pet Shop infatti punta tutto sulla qualità, lo fa scegliendo di riempire le scansie dei propri negozi con marchi rigorosamente selezionati. Qui trovi solo i migliori prodotti, spesso biologici, tra i quali scegliere per nutrire in maniera naturale il tuo amico a quattro zampe, senza l'utilizzo di sostanze chimiche, appetizzanti o ingredienti di scarto. Nei loro punti vendita allestiti, avvalendosi delle soluzioni studiate da Reda Metallici, acquistare il migliore prodotto per il tuo animale domestico sarà facile grazie alla competenza del personale composto da laureati in veterinaria, scienze biologiche, farmacia o itiopatologia, ma anche da volontari di canili o gattili e allevatori. Tutte persone accomunate dalla passione per amici che da Robinson Pet Shop non sono considerati semplici animali domestici, bensì membri a tutti gli effetti di una grande famiglia. Scoprilo anche tu nei 10 punti vendita presenti in tutta la Romagna e visitando lo shop online sul sito robinsonpetshop.it Perfetto, da Robinson Pet Shop a qualcosa che è molto affine sotto certi punti di vista, vero? Sì, infatti Enrico li abbiamo appena citati e con loro vogliamo entrare in un mondo di idee e di soluzioni pensate e progettate per la comodità e la funzionalità del vostro ufficio, del vostro esercizio commerciale e della vostra casa. È il mondo di arreda metallici, la ditta di Forlì che da 30 anni opera nel settore dell'arredamento, con spiccata professionalità ed estrema attenzione alle esigenze dei suoi clienti. Arreda metallici progetta, realizza, distribuisce e posa direttamente in loco scaffalature per uffici, scuole, biblioteche, studi professionali, aziende e negozi, spaziando dai sistemi componibili per magazzini a banchi, vetrine e supporti espositivi adattabili ad ogni spazio e categoria merceologica. Le loro soluzioni sanno soddisfare ogni richiesta e rendere pratico e confortevole qualsiasi ambiente. Potete trovare complementi d'arredo in metallo e non solo, cabine armadio, librerie, classificatori, mobili e poltrone per l'ufficio, targhe e segnaletiche di sicurezza, stander, accessoristica, espositori di ogni tipo. In più, una speciale attenzione per lo sport con la realizzazione di panche e spogliatoi per le palestre. Arreda metallici lo trovate in via Gorizia, 222-224 a Forlì. Visitatela e contattatela gratuitamente e senza impegno. Il suo personale specializzato prima di tutto vi ascolta. Benissimo, grazie Franceschi. Intanto davo una sbirciata ai messaggi, ne stanno già arrivando tanti. Continuate così, sempre di più, sempre di più. E noi torniamo da Luca Bolognesi. Luca, allora, a Montegranaro, anzi a Porto San Giorgio per essere più precisi, per vendicare una scoppolo incredibile all'esordio casalingo all'andata. Fu uno shock, credo, per tutti. Vedere Ravenna esordire con una partita strapersa, non so quando è stato lo scarto finale, comunque una trentina di punti, se non erro. Cosa è cambiato? Trenta minuti in partita contro una squadra di livello come Porto San Giorgio. Poi cosa ha prevalso maggiormente, secondo te, dei gialloblu? Ma sicuramente la Ravenna che è andata a giocare a Montegranaro non era quella della seconda giornata. Sicuramente dal punto di vista difensivo è cresciuta moltissimo, ha smesso di fare errori banali anche nell'uno contro uno, spesso giocatori battuti sul primo palleggio nella partita del Paladino André, mentre l'altra sera è successo massimo due o tre volte. Quindi è cresciuta dal punto di vista difensivo, però non cresciuta dal punto di vista offensivo, soprattutto nei momenti caldi della partita. Ravenna spesso parte bene nei quarti, anche a Porto San Giorgio ha fatto due grossi parziali, oltre a quell'iniziale di 16-5 mi pare, dopo ha esordito nel terzo periodo e nel quarto periodo con un 7-0 e un 6-0. Però poi smette di girare la palla, in attacco troppi isolamenti e dopo ovviamente ne risente per forza anche la difesa, perché in transizione è più difficile accoppiarsi. Si finisce per essere smetti pendenti. Il discorso è questo. Si, dipendenti però da tiri non sempre ben consigliati di Smith. Poi può succedere come a Piacenza la prima giornata, che fa 40 punti o 35 e vince la partita sostanzialmente da solo, ma può anche capitare che prendi l'imbarcata di 12-2 mi pare nel quarto periodo, quando sia Smith che Lagana hanno preso un paio di tiri mal consigliati. Guardando invece Montegranaro ti chiedo, Montegranaro in questo momento ha gli stessi punti di Treviso, che giocherà con la Fortitudo domenica, il lunch match di mezzogiorno, Montegranaro secondo te è una squadra che può correre fino in fondo, non so, se per contendere il primo posto alla Fortitudo, in caso la Fortitudo vincesse con Treviso, o comunque per giocarci la promozione play-off? Allora, per il primo posto, secondo me, a prescindere dal risultato, è chiaro che una vittoria di Treviso potrebbe girare l'inerzia psicologica del campionato, però la Fortitudo sembra troppo superiore a tutti. Per contendere il secondo posto invece ho visto una squadra capace di vincere, anche in una serata in cui il tiro spesso non l'ha aiutato, cioè al palo di Andrè è stato facile, da sotto segnavano sempre, sugli scarichi segnavano sempre e quindi hanno fatto 100 punti e non c'è stato problema. In questa partita dove sono partiti, soprattutto nel primo quarto, in cui tante triple aperte, costruite anche bene, Ravenna ha deciso di togliere i canestri da sotto, ha lasciato qualche tiro aperto a Mastellari e anche a Tiratori, anche a Simmons, che non li hanno segnati all'inizio e Montegranaro è stata lì ed è stata, si è dimostrata una squadra di livello perché pian piano, pian piano, è riuscita ad aspettare il momento della partita in cui fare il parziale per vincerlo. Volevo chiedere anche a Kenny, secondo te, insomma, prima di tutto tra Bologna e Treviso domenica cosa succede? Bologna chiuderà di fatto il discorso primo posto e poi chi ti ha impressionato, fortitudo a parte delle squadre che in questo momento guidano la classifica? Beh, tra la fortitudo e Treviso non posso dirvi cosa succeda, cosa posso succedere. Negli ultimi due settimane anche noi come squadra abbiamo dimostrato che non si può prevedere nulla. Per quanto riguarda la fortitudo che chiude la stagione, beh, manca ancora tanto, mancano tante partite e bisogna sempre approcciare tutte le partite con la stessa mentalità, è ciò che cerchiamo di fare anche noi, ma fino ad ora loro hanno lavorato benissimo, sono sulla strada giusta per andare diretti in Serie A, ma comunque la strada è ancora lunga. Più in generale, la 2 di quest'anno rispetto alla 2 che hai vinto tu con la Virtus Bologna, come la giudichi? È una 2 più forte, è una 2 sullo stesso livello? È difficile da dire. Per quanto riguarda i giocatori individualmente, ma anche le squadre, non posso dare una risposta, ma una cosa che posso dire è che credo che questo campionato è molto più competitivo, perché ci sono più promozioni quest'anno e quindi sì, si è alzato il livello. Si è alzato il livello, secondo Kenny Lawson, secondo te Valentino, il livello delle prime 5-6 squadre è un livello, diciamo, superiore a quello delle prime 5-6 degli anni scorsi? Probabilmente sì, con la fortitudo è indiscutibilmente avvantaggiata da una profondità e da una qualità nei singoli che difficilmente vedo una squadra che possa competere per soffiare la promozione diretta ai bolognesi. Tu dici, se la fortitudo batte Treviso, il primo posto è un discorso chiuso. Secondo me, anche se Treviso dovesse vincere la partita con Bologna, dopo Bologna dovrebbe comunque perdere altre partite. Troppe. Troppe partite e non vedo squadre, non vedo chi possa far perdere così tante partite alla fortitudo. Perfetto, con questa opinione di Valentino Piolanti siamo in chiusura della prima parte. Francesca, però state con noi perché adesso ci ritroviamo con tantissime chiacchiere da fare, scoprendo un po' il mondo di Kenny Lawson, iniziando a scoprirlo con Francesca il mondo di Kenny Lawson, soprattutto giocando, giocando, giocando insieme in diretta per vincere. Quindi pochi istanti e poi ci ritroviamo. Ben ritrovati a questa seconda parte di Panorama Basket ed è il momento di giocare. Come diceva poco fa Enrico, giocare per vincere che cosa? Uno dei premi che a voi piace tanto, ovvero il buono per andare a consumare gratuitamente una pizza e una birra dai nostri amici di Mami Margherita. Mami Margherita è il ristorante che trovate in piazza Cavour 18B e io penso che non ci sia niente di più bello in questo periodo con questo freddo Enrico che andarsi a mangiare una bella pizza calda, in compagnia dei propri familiari, amici e anche con i vostri amici a quattro zampe. Perché infatti Mami Margherita ha un menù appositamente studiato per i vostri cani, ma non solo perché a voi infatti ci penserà a deliziarvi con primi piatti, secondi e straordinarie, pizze e gourmet come avete visto nelle immagini che sono scorse poco fa, avvalendosi sempre e solo di prodotti assolutamente biologici e di stagione Enrico. Quindi giocate in tanti, giocate in tanti come? Beh, questa sera vi faremo vedere un altro video sempre incentrato sul tema dell'NBA anche questa settimana, però vogliamo celebrare uno dei suoi più grandi campioni di sempre e lo facciamo a modo nostro, vero Enrico? Eh sì, lo facciamo a modo nostro, lo facciamo oggi in modo particolare in musica, perché parliamo di Irvin Johnson detto Magic, a cui pensate uno dei gruppi musicali più famosi in assoluto, che sono i Red Hot Chili Peppers, dedicarono una canzone. Lo fecero esattamente 30 anni fa nell'album Mother's Milk e dedicarono questa canzone che si intitolava proprio Magic Johnson per celebrare il simbolo della squadra per cui loro stessi facevano il tifo. Allora andiamo a sentire un pezzo di questa canzone così importante dei Red Hot al loro momento magico a loro volta, perché c'era già un frusciante alla chitarra, insomma erano i primi Red Hot davvero clamorosi. Vediamo un po' di questa canzone, poi Francesca vi farà tre domande relative. Grazie a tutti! Allora devo dire che io e Enrico non ci siamo messi d'accordo, quindi il mio stile un po' rocchettaro di questa sera, devo dire che è assolutamente calza a pennello, vero? Assolutamente sì! Benissimo, come avete visto in questo video, allora abbiamo detto che il protagonista della canzone è Magic Johnson, ma in particolar modo si parla dei Los Angeles Lakers, che furono campioni in due anni consecutivi, precisamente nell'87 e nell'88, scrivendo una vera pagina di storia. Per cui io adesso vi faccio queste tre domande. La prima, prima di quei Lakers, quale fu l'ultima squadra a vincere due titoli consecutivi e in quale anni? Domanda numero due, Johnson detiene ancora oggi il record assoluto di assist distribuiti nei play-off. Quanti sono complessivamente? Domanda numero tre, Irvin Johnson è per tutti Magic, ma i suoi compagni di squadra lo chiamavano con un altro soprannome. Quale? Eh sì, questo è un po' particolare, andate a fare le vostre ricerche. I compagni di squadra di Magic Johnson non lo chiamavano Magic, ma in un altro modo. Vogliamo sapere da voi come lo chiamavano. Eh sì, e rispondete, mi raccomando, tramite messaggio WhatsApp, firmandovi, così possiamo annunciarvi alla fine. Assolutamente sì, è giocato in tanti e vincerete. Eh beh, il premio è un gran bel premio. Perfetto, Francesca. Ok, noi adesso continuiamo a parlare con i nostri ospedi, anzi no, lo facciamo andando un attimo in serie B, perché vi vogliamo far vedere cosa è successo sabato. Sabato si giocava una partita importante come Lugo-Ozzano e guardate, anche voi Kenny, Luca e Valentino, cos'è successo negli ultimi tre secondi. Questa è pura fantascienza però, eh? Ecco. Preso il canestro da sotto. Oh! Grande canestro di Serra! Grande canestro di Serra da metà campo! Grande! Lugo la vince così, 80-79 contro Ozzano. Insomma, in tre giorni una persona molto importante è morta e risorta. In tre secondi Gianluigi Galetti, coach di Lugo, è morto e risorto. Vero Gianluigi? Ah sì, buonasera, sì, sicuramente sono morto perché la difesa sull'ultima rimessa nostra è veramente molto rivedibile. Però poi Matteo ha fatto questo miracolo, ha fatto che ci ha regalato veramente una gioia indescrivibile e ci ha messo in una situazione di pacifica che è veramente più rosea di quella che ci aspettavamo. Eh sì, tra l'altro do una notizia perché avete Desio dietro e Desio ha sollevato dall'incarico coach Fabrizio Frates proprio nei giorni scorsi. Detto questo però, due punti che lei ha appena citati tu, contano tantissimo per il vostro campionato. In una settimana difficile perché si giungeva questa partita con il sacrificio, mi viene da chiamarlo così, di uno dei giocatori che furono simbolo della salvezza dell'anno scorso. Parliamo di Matteo Galassi che non ha giocato il match perché si era accordato proprio con Ozzano. Quanto è stato difficile comunque rinunciare a un ragazzo così? Guarda, la difficoltà è stata difficilissima, non so neanche come descrivertela perché onestamente lui è figlio di questo progetto lughese, forse una delle espressioni migliori di questa cosa, era uno di quelli che era riuscito a esprimersi venendo da una realtà molto più piccola come l'ultima squadra della Serie C, quindi è cresciuto con noi, era diventato un po' il nostro simbolo assieme a Matteo Selavalli e il fatto che abbia preso questa decisione è chiaro che ci ha un po' turbato. Poi sai, onestamente c'è stato anche il fatto di dover aspettare il match proprio con Ozzano e quindi sono stati gli ultimi giorni, soprattutto sono stati giorni difficili perché avevamo Matteo come una sorta di separato in casa e insomma non sono mai situazioni piacevole. Credo che però sia stato anche lui contento perché sa quanto è importante per Lugo questo successo e la salvezza che Lugo deve ottenere. Adesso però cosa farete? Perché avete bisogno di sostituirlo. Radiomercato parla di alcuni nomi come Musso, fratello del Bernardo Musso che conosciamo per aver giocato anche a Forlì, come Umberto Pietrini che però è un'ala che se non sbaglio ci allena con voi. Insomma, farete qualche movimento da qui a venerdì? Io non credo che in questa settimana riusciremo a portare a termine qualcosa, se non proprio all'ultimo onestamente. Quello che ci interesserebbe è di più avere qualcuno a disposizione per il mercoledì successivo perché nell'infrasettimanale andiamo a Cremona che è due punti sopra di noi. Però ecco, la situazione che dicevi tu, Musso, è un discorso che abbiamo intavolato da poco, ci è stato proposto in questi giorni, stiamo valutando. La situazione di Pietrini è una situazione un po' più semplice, nel senso che il ragazzo è più di un mese che si allena con noi. dobbiamo valutare situazioni più che altro a livello di ruolo perché ecco, diciamo che la situazione era che non ci aspettavamo la partenza di Matteo, quindi di Galazzi, quindi ovviamente è un po' da far quadrare tutto di nuovo, dobbiamo ancora valutare bene. Adesso però avete due partite, una l'avete già giocata, una la giocherete in casa contro Milano. Francesca, c'è una domanda dai nostri telespettatori per te, Gianluigi, proprio su questo match. Esatto, ciao Gianluigi. Ciao, ciao Francesca. Allora, Fabio e Luca ti scrivono, riusciremo a battere Milano sabato? Noi tifosi saremo lì a sostenere la squadra. Allora, per quello che riguarda il valore di Milano, Milano probabilmente è la squadra con l'organico migliore di questo campionato. Non si è mai espressa ai massimi livelli perché ha avuto problemi di infortuni, ha fatto qualche inciampo anche clamoroso, però sta rivenendo fuori bene. Onestamente noi pensiamo che il nostro valore sia molto inferiore, tecnicamente parlando, nei confronti di Milano. Però è anche vero che noi in casa ultimamente abbiamo sempre espresso delle buone prestazioni, sia a livello di gioco che a livello di intensità e di tenuta, che è un po' il problema che abbiamo in trasferta. In trasferta non riusciremo a tenere tutti i 40 minuti pur giocando degli sprazzi di buona pallacanestro. Quindi io credo che dipenderà molto anche da come noi approccieremo la partita, se riusciremo a preparare qualcosa di tecnico, di tattico, insomma un pochino particolare. Anche se devo dire che proprio qualche minuto fa purtroppo si è infortunato De Marchi e questo non ci voleva per noi. Non ci voleva, infatti. Non sappiamo se riuscirà a recuperare per sabato. E poi anche uno dei reparti esterni che è già privo di galassio. Te lo auguro di tutto cuore Gianluigi. Grazie di essere stati in nostra compagnia anche questo martedì sera. Grazie a voi, grazie a tutti. Perfetto, grazie al coach di Lugo. A proposito Francesca, io credo che la prestazione di Lugo, che è vasi questi due punti con Ozzano, assieme a quella di Forlì, insomma incidano nella nostra top 5. Sì Enrico, infatti è il monopolio di questa top 5, è quasi tutta di Forlì e di Lugo, perché troviamo un Pierpaolo Marini davvero incredibile. Infatti, come potete leggere nella nostra slide, le cifre parlano da sole, Enrico. E' stata anche ottima la prestazione di Kenny Lawson, che è sempre più attivo, è sempre più in continuo di venire e crescere. Anche Lugo porta due giocatori però nel quintetto ideale. Sono Matteo Serravalli, appunto autore del canestro decisivo che abbiamo visto poco fa, e Jonas Bracci, che non sbaglia un tiro e cattura 10 rimbalzi, di cui 8 in attacco. A completare poi la nostra top 5 c'è il centro di Imola, Emanuele Rossi, tra i pochi a tenere l'urto della capolista Fortitudo. Poi questa settimana abbiamo anche tre menzioni speciali, e sono per Tommaso Xiglia di Forlì e Simone Lucarelli di Lugo, e premiamo anche Carlo Fumagalli, nonostante la sconfitta però della sua faenza. Perfetto, questi giocatori che ci sono maggiormente distinti nell'arco della settimana, tra cui Kenny Lawson. Oh, Kenny, è un'ottima partita anche tua, insieme al collettivo a Verona, in un ottimo momento più in generale tuo in questo campionato. Insomma, ti senti bene? Mi sembra che tu stia crescendo di rendimento in questa stagione. Beh, non direi migliorare, diciamo che sono diventato più continuo dall'inizio della stagione, e comincio a trovare il mio ritmo. Quindi credo che sia questo, cerco di fare il mio meglio, fare di tutto per la squadra, e per vincere più partite possibili. Kenny, abbiamo visto anche Tommaso Xiglia in questa nostra classifica dei migliori di giornata. Tommaso che conosci bene perché avete giocato insieme anche in Virtus, insomma ancora giovane, ma sta già avendo un impatto da giocatore maturo. Beh, sì, non l'ho visto giocare molto l'anno scorso, ma due anni fa, sì, quando giocavo con me a Bologna, beh, nel frattempo è migliorato tantissimo. Quando sono arrivato a Forlì, sono rimasto a bocca aperta a vedere come gioca, cioè quanto è migliorato. È bello vedere quanto sia cresciuto. Ha un futuro molto promettente e sono curioso di vedere come sarà ancora in futuro. Quindi, Kenny, parlavamo di Xiglia, io ti chiedo, della tua squadra c'è qualcuno con cui hai legato maggiormente? Beh, non direi che ho un amico speciale rispetto a un altro. Passiamo tanto tempo insieme, abbiamo tante occasioni per vederci, siamo una famiglia. E credo che questo renda le cose più facili per noi, anche in campo. Ma non credo che ci siano dei gruppetti o intese speciali, oppure di gruppetti di gente che si usa dal resto del gruppo, ecco. Per quanto riguarda invece il pubblico forlivese, cosa ne pensi? Ma soprattutto ti faccio questa domanda. Come hai reagito quando il pubblico ha storto un po' il naso, vedendoti giocare comunque lontano da canestro, quindi lontano da quello che loro pensavano che fosse il tuo gioco? E di questo noi, Enrico, abbiamo fatto anche una slide, infatti, che possiamo chiedere alla regia di mandare in onda. Esatto, perché è un tema molto interessante e su cui si è discusso moltissimo questo, Francesca. Kenny. Beh, non mi interessa poi molto quello che pensa in me la gente che non è in squadra, perché non sono opinioni che alla fine cambiano la sostanza. Credo che il coach Valli, anche GM, Renato, mi hanno chiamato per una ragione specifica. E ciò che sto facendo, spero che quello che sta facendo faccia bene alla squadra. E se non lo è, allora cercherò di aggiustare quello che faccio per cercare di aiutare meglio la squadra. Quindi, io posso andare dentro, uscire dal pitturato, se devo fare qualcosa di diverso, allora lo faccio. Posso adattarmi, se il coach mi dice di fare qualcosa in maniera diversa, io lo faccio. Punto e basta. Però fondamentalmente sei sempre stato questo giocatore qui, con una doppia dimensione sin dal tempo del college, quindi che c'è di strano, mi verrebbe da dire. Beh, non credo di aver cambiato il mio modo di giocare. Credo che in molte partite mi vedete molto più sotto canestro, a volte un po' più sul perimetro. Dipende un po' da come va la partita, ecco, dal ritmo. Perfetto. Tu Valentino sei stupito? Insomma, come consideri Kenny Lawson con questa sua doppia dimensione? Ma secondo me Lawson non è stato preso per fare il pivot dominante e quindi sta facendo quello per cui è stato preso. Se cercavamo, come Forlì, un giocatore stanziale nell'area dei tre secondi, non dovevamo andare a acquistare un giocatore come Kenny Lawson. E poi comunque abbiamo visto dalla slide, insomma, nelle ultime cinque gare Lawson è passato a segnare 19,8 punti di media partita con 10,2 rimbalzi. Quindi, insomma, è un rendimento sempre più importante. Francesco, un po' di domande da casa. Sì, Enrico, in merito al discorso Marini che facevamo prima, perfino i tifosi scaligeri hanno applaudito Marini. Verro. Un spettacolo vederlo elevarsi in verticale, in transizione e piazzare bombe a ripetizione. Grande, 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 questo lo scrive Warrior. Assolutamente sì, è giusto che segnalare anche appunto l'applauso che il pubblico scaligeri ha rivolto a Forlì e a Marini in particolar modo. Poi ancora? E ancora c'è chi ci scrive, più che un americano, Marini mi pare giocare come uno slavo. In certi movimenti mi ricorda Drazen Petrovic, ho detto bene Enrico? Sì, assolutamente. Che vedevo giocare su Telecapo d'Istria più di 30 anni fa. Ti ricorda Drazen Petrovic con tutti i paragoni del caso, le cautele del caso, ovviamente, Vale? Io preferirei non rispondere, mi posso avvalere della facoltà di non rispondere. Nicolai un po' lo ricorda, non solo per il numero. Sì, Nicolai sì. Posso dire di sì. Un'altra domanda, Francesca? Beh, questo è curioso perché in merito al discorso che faceva poco fa Kenny, dice questo telespettatore, ci sono voci che dicono di una rottura tra Melvin e il resto della squadra. C'è qualcosa di vero? Dalle parole di Kenny sembrerebbe poi di no. Oh boh, oh boh, oh boh. I rapporti di spogliatoio, tu hai detto, hai parlato di famiglia, insomma, non mi è sembrato che possa esserci qualche problema. Kenny non sta bene fisicamente, lo sappiamo purtroppo. Come sta Melvin? C'è qualche problema? Insomma, Melvin vive la situazione con difficoltà in questo momento, secondo te? No, Melvin non ha problemi. Passa molto tempo con noi, usciamo sempre insieme, siamo sempre insieme e quindi siamo un gruppo molto affiatato, quindi non so da dove vengono questi rumor. Perfetto, insomma, questa è la risposta di Kenny Lawson. Francesca, andiamo un po' a salutare i partner di Panorama Basket adesso? Sì, infatti Enrico, perché manca pochissimo, dal 25 al 27 di gennaio alla fiera di Forlì tornano la 17esima edizione di Saper e la quinta invece di Forlì Wine Festival. I saloni del gusto dove potrete assaggiare e acquistare a prezzi incredibili l'eccellenza dell'enogastronomia italiana. Nel più grande mercato coperto della Romagna vi aspettano stand con prodotti tradizionali e genuini di tutte le regioni. Una nuova area dedicata ai cibi di strada dove scoprire le tradizioni di paesi lontani e la qualità della cucina stellata. A Saper potrete scoprire l'antica arte dell'intaglio di frutta e verdura e imparare a distinguere le diverse qualità di acqua minerale diventando dei veri idrosommelier. In più, centinaia di etichette dei migliori vini di tutta Italia. Scopriteli in un percorso di degustazioni illimitate ricevendo in omaggio un calice e la tasca personalizzata. Nelle giornate di venerdì e sabato Saper e Forlì Wine Festival resteranno aperti sino alle 22 e 30 e venerdì potrete entrare a soli 3 euro. Noi però vi consigliamo di andare sul sito sapeur.it per scoprire tutti gli eventi in programma e scaricare le riduzioni anche per le altre giornate. Perfetto, grazie Francesca. Dai, facciamo una corsa, facciamo una corsa. Ci spostiamo dove adesso? Ci spostiamo dai nostri amici di MC Antifurti che pensano a sorvegliare le vostre case mentre siete alla fiera di Saper. Infatti MC propone moderni sistemi dotati di tecnologie all'avanguardia che vi permettono di controllare e tenere lontani malintenzionati fin dall'esterno di casa vostra. Con i sistemi MC, ovunque vi troviate, potrete gestire il vostro impianto e ricevere l'avviso di qualsiasi evento ad esso relativo direttamente sul vostro smartphone attraverso una comodissima applicazione. Sempre attraverso l'app potrete anche accendere e spegnere l'antifurto, gestire le luci in giardino e vedere le immagini delle telecamere di casa sia in diretta che registrate. Potete quindi uscire di casa in tutta tranquillità e fare sogni sereni perché a voi, infatti, pensano le soluzioni studiate e realizzate ad hoc dai tecnici specializzati di MC. Chiedete a loro un preventivo gratuito chiamando allo 0543 725395 oppure visitando il sito www.mcsistemi.it o la loro pagina Facebook. Benissimo Francesca, ti ringrazio. Io ho visto ancora un po' di domandini interessanti, ce ne sono due per Luca dai nostri telespettatori e sono davvero dei temi belli da sviscerare, si chiama Luca Bolognesi. Sì, uno è questo, il gioco latita. La ganà non è un play, siamo smith dipendenti e l'entusiasmo cala. Caro presidente, vorrei sentire il tuo parere. Forza Ravenna da Loris. Ovviamente non sei il presidente Vianello, però su questa domanda io su un punto l'entusiasmo cala, beh, insomma, ci ho riflettuto anch'io Luca. Insomma, non vedo grande entusiasmo quest'anno a Ravenna. Allora, purtroppo anche il presidente in fase di prestagione aveva chiesto una squadra e aveva pensato di aver costruito una squadra che giocasse un basket frizzante e che potesse piacere al pubblico. Il gioco latita perché ci sono troppi isolamenti, tra oggi la palla gira troppo poco e il pubblico, anche se non di cultura cestistica, diciamo, molto longeva, se ne accorge. Chiaramente c'è da capire che rispetto all'inizio questi ragazzi hanno cominciato a darci di più e infatti i risultati sono più arrivati in partite sporche, brutte, brutte. Perché contro Ferrara, che è una squadra modesta, soprattutto in quel momento della stagione, è una squadra modesta. La partita non è stata per nulla buona, però il risultato è poi quello che conta e i risultati, come abbiamo detto prima, sono più o meno quelli che si potevano attendere. Quello che manca magari è un po' l'estetica. Ci sono altre domande, ma te le faremo più avanti, Luca, assolutamente, in cui continueremo a analizzare il momento di Ravenna, poi parleremo anche di mercato, perché abbiamo tante notizie da dare. Ora però, Francesca, Kenny, guarda Francesca, perché adesso avete un momento in cui dialogate voi due. Eh sì, infatti è arrivato il nostro momento per conoscerci un po' meglio, Kenny. Io so che sei nato a Oceanside, nel sud della California, e so anche che hai tre fratelli, tutti e tre maschi, per cui ti chiedo intanto di dirci come si chiamano, e ti chiedo anche, vista la distanza, quanto spesso senti la tua famiglia e attraverso quali social magari o telefonino o quant'altro? Sì, ho tre fratelli, uno più giovane e due più grandi di me, Darius e Darlene, e il più piccolo con Quincy. Beh, non parlo con loro forse quanto dovrei, ma comunque siamo in contatto con iMessage, Whatsapp, Facebook, ogni tanto ci telefoniamo. Ogni domenica cerco di chiamare i miei su Skype e parliamo di cose senza senso per un paio d'ore, insomma. E questa è la pubblicazione che ho con la mia famiglia, ecco. Ma della tua famiglia, anche dei tuoi fratelli, c'è qualcuno che ha giocato a basket a livello professionale, a parte te? No, il mio fratellino ha giocato due anni nella Division 1 della NCAA, ha avuto un brutto infortunio e si è trasferito in un'università più piccola e non ha mai deciso poi di smettere di giocare dopo il college. So che però una parte della tua famiglia è qui con te a Forlì e sto parlando di tua moglie, tua moglie Ashley, e vi chiedo intanto come vi siete conosciuti e so che invece lei a basket ci ha giocato, vero? Sì, l'ho incontrata al college, all'università, era amica di una ragazza che giocava a playmaker nel mio college e siamo usciti una volta, l'ho incontrata tramite lei e ci siamo tenuti in contatto e poi ci siamo sposati due anni e mezzo fa. Sì, lei ha giocato a basket nella Division 2, nell'università vicina a casa mia, ma poi diciamo che poi si è laureata quindi non l'ho mai vista giocare in realtà. Beh, ogni tanto vi sfidate a basket? Fate qualche partitina voi due? No, la sfida di basket che facciamo tra due è un po' di trash talk, ma l'unico modo è perché mi ha visto giocare da tanti anni, da nove anni e quindi mi può dire qualsiasi cosa può offendermi per le partitacce che ho fatto, ma io non l'ho mai vista giocare, quindi è un po' ingiusto, ecco. Per quanto riguarda invece la tua di carriera, io parto dal baseball, perché parto dal baseball? Perché so che tu ai tempi del liceo eri lanciatore della tua squadra ed eri anche piuttosto bravo, quindi cosa è successo? Cosa ti ha fatto cambiare idea per passare dal baseball al basket? Beh, non mi piaceva il mio coach di baseball. E poi c'erano anche altri giocatori che avevano dei problemini con me, ma fortunatamente era il momento in cui ho avuto un grosso sviluppo fisico, ho avuto un ottimo anno giocando a basket e quindi la decisione è venuta da sola. Ma allo stesso tempo mi guardo sempre indietro e penso, ma cosa poteva essere? Perché per me era molto più naturale giocare a baseball, mi piaceva anche di più ed è uno sport che mi piace ancora, ma sono molto più felice adesso di essere un cestista perché ho potuto girare il mondo, ho conosciuto tante persone e quindi sono molto felice su come poi sono state le cose alla fine. Però so che c'è anche un altro sport che ti piace, sto parlando del golf, mi hanno detto che ti piace giocare a golf soprattutto d'estate, dove vai a giocare a golf qui? No, non gioco a golf in Italia, non posso, non durante la stagione, ma sì, in estate cerco di giocarci il più possibile, non sono bravissimo, ma è diciamo una cosa che mi piace e che ha cominciato a interessarmi. Poi so che la tua carriera continua in questa maniera perché un giorno dal sole della California, dalle palme, dall'oceano della California, hai fatto un bel salto lungo fino al cuore degli Stati Uniti, nel Nebraska, perché sei andato a frequentare l'Università di Creighton, che è un'università molto rinomata per il basket in America. Che cosa ti ha spinto a fare questo viaggio? Beh, il coach che mi ha reclutato era un ottimo reclutatore, credevo molto in lui, volevo andare in una scuola più piccola, che era molto importante a punto di vista di istruzione, e che poteva darmi un qualcosa, che poteva aiutarmi anche dopo il basket. E questa c'è una tifoseria di 60.000 persone in tutta la stagione e ci sono molti giocatori di college che hanno avuto questa esperienza. Dopo io so che oltre a diventare uno dei giocatori di basket più importanti della tua università, tu ti sei anche laureato, in che cosa? Beh, in giornalismo. Come mai questa scelta di studi? Eh, perché ho scelto il giornalismo? Beh, l'ho scelto perché sono un ottimo scrittore, ed è per quello che ho scelto quella carriera, ma volevo anche stare dietro la telecamera, lavorare su SPN, ma anche la scuola avevo cominciato a offrirmi lavori del genere, e quindi ho scritto molto, scrivo sul giornale della scuola per un semestre, ero stato un grande scrittore, andavo anche per la scuola di calcio, facevo i reportage. E infatti sapevo che hai scritto per il giornale della scuola che si chiamava The Craytonian, è vero? Yes. Che cosa scrivevi in particolar modo? Beh, per un semestre ho fatto il reportage della scuola di calcio, sono andato a vedere tre o quattro partite, non ricordo gli altri articoli che ho scritto, ma avevo fatto una biografia di uno di Anthony Tulliver, che gioca ancora in NBA, che aveva frequentato l'università. Ecco, questi sono gli articoli che mi tornano in mente adesso. Però so anche che hai detto, sei bravo a scrivere, e nel 2011-2012 tu hai creato anche un blog tuo, che però hai abbandonato completamente. Adesso cosa vuoi fare? Vuoi riprenderlo? Beh, ci penso sempre, ma... Ci sono delle cose che è nella mia mente, ed è meglio non parlarne adesso, anche di alcune esperienze che ho fatto, che vorrei fare, ma è meglio metterle da parte e ripensarci quando appenderò le scarpe al chiodo. Beh, allora ti faccio quest'ultima domanda, così ti lascio riposare qualche minuto, perché da detto ai lavori a questo punto io ti chiedo che cosa ne pensi del giornalismo sportivo italiano. Li leggo ogni tanto i giornali in italiano? Papers? No, perché comunque io non so tanto italiano come dovrei sapere, ma se parlassi italiano forse avrei letti, sì. Perfetto. Perfetto, allora adesso lo sapete cosa succede, lo sai cosa succede Francesca, che adesso andiamo in pubblicità, è finita la pubblicità, torneremo in onda, ci sarà Kenny Loson a condurre Panorama Basket e Pasini al posto di Kenny Loson a rispondere alle sue domande. Pubblicità. Benissimo, terza parte, purtroppo c'è ancora Pasini, non c'è Kenny Loson a condurre, di fianco a Francesca, va bene, no, ma gli faremo dopo un provino, Kenny, facciamo un provino per la trasmissione, per la prossima stagione, se rimani in Italia potresti condurre tu, la trasmissione non sarebbe una cattiva idea. Detto questo però Francesca, adesso come tutte le volte nella terza parte della nostra trasmissione, iniziamo a guardare un po' le partite che ci si prospettano nel fine settimana e cosa abbiamo scelto? Sì Enrico, siamo andati a dare uno sguardo alla Serie B, in particolar modo la partita che si giocherà questo weekend tra Crema e i Tigers, è una partita davvero molto interessante perché intanto avremo l'esordio davanti al pubblico di Cesena di Matteo Frassineti e poi soprattutto c'è il ritorno in Romagna di Gigi Garelli che oltretutto è stato coach di Frassineti esatto, ai tempi di Forlì, per cui ci sarà un incontro però tra avversari in questo caso e allora è una partita davvero particolare perché vogliamo andare a capire qual è il gioco di Crema, anche perché abbiamo visto che nelle ultime due partite due su tre esattamente sono state vincenti allora lo andiamo a scoprire assieme ad Anna Maria Fantini come giocherà Crema e a che cosa dovranno prestare attenzione i Tigers e lo facciamo con la nostra rubrica fantastica Anna. Vediamo subito. Amiche e amici del basket ben ritrovati oggi parleremo di una partita molto particolare ed è quella fra Tigers, Cesena e Crema particolare perché c'è il ritorno di Gigi Garelli in Romagna e torna con una squadra tra le ultime classifica quindi alla grande ricerca di punti i suoi giocatori chiave sono Montanari che è il playmaker e anche il miglior marcatore ed è ben spalleggiato da Tognato, Norcino e dal neoacquisto Brighi sotto cadastro c'è Pedrazzani che può dare qualche problema forse al lungo Berkic e Pedrazzani viaggia con 11 punti di media partita ma ora vediamo un gioco particolare di Crema faccio partire subito il filmato il playmaker passa la palla alla guardia taglia per andare a fare questo blocco a 5 2 passa la palla a 4 e va in allontanamento a questo punto con palla a 4 può ricevere 5 oppure avviene un'altra cosa ed è questa 5, 4, 1, 2 lontano 4 passa la palla a 5 va a fare questo blocco per uno che esce e ci può essere o il passaggio consegnato o il blocco sulla palla per l'uno contro uno Montanari passa la palla a Norcino che serve a sua volta Eniche dopo questo blocco riceve di nuovo Montanari per il tiro ancora palla a Eniche questa volta a Pedrazzani che non serve la guardia ma gioca su uno contro uno per i giocatori di coach di Lorenzo sarà importante partire con la mentalità giusta con grande aggressività dal primo all'ultimo momento senza sottovalutare l'avversario e soprattutto facendo attenzione alle alchimie tattiche difensive di coach Garelli ancora una volta un grosso in bocca al lupo a tutte le formazioni romagnole e un mio personale in bocca al lupo a coach Garelli per questa sua nuova avventura a Crema ciao a tutti eccoci qua come ha spiegato appunto Anna Maria Fantini Crema con Garelli ha cambiato il suo modo di giocare adesso poi è anche una Crema diversa perché c'è Lorenzo Brighi nelle rotazioni di Gigi Garelli Lorenzo Brighi che è stato in procinto proprio di andare a Lugo con coach Galetti poi Crema ha offerto di più e l'ha strappato ai biancoverdi portandoselo a sé quindi un Brighi in più per Crema un Frassineti in più in casa per i Tigers assieme anche ad Alessandro Dall'Omo giovane del 99 prelevato dalla Cesena 2005 di Serie D tesserato e presentato oggi dai Tigers classe 1999 insomma Tigers che cambiano tanto però sono senza Raschi che è fuori ancora un mesetto per un problema al piede senza un giocatore secondo me cardine che è Francesco Papa che dovrebbe avere ancora per un mese e mezzo se non due e Papa la sua assenza si fa molto sentire vero? Francesco è un giocatore su cui di Lorenzo ha puntato molto e purtroppo ha avuto uno stiramento e starà fermo un paio di mesi e adesso Cesena ha inserito Matteo Frassineti dovrà essere bravo coach di Lorenzo che l'ha fortemente sponsorizzato e voluto a amalgamare i tanti giocatori di spessore che ha e di livello forse anche superiore per la categoria della B1 per ottenere l'obiettivo sperato che non può non essere se non la promozione in Lega 2 18 minuti qui rigiocati dal Frasso a Lecco all'esordio in maglia Cesena che Frasso è in questo momento e che Frasso potrà essere per Cesena? Sicuramente è un Frassineti che deve avere il suo tempo per calarsi in una realtà diversa rispetto a quella di Treviglio dove era chiamato a equilibrare il gioco in mezzo a tanti giovani che la società bergamasca schierava anche per un discorso di under e di premi under qui deve essere non dico l'americano di Cesena ma deve dividersi i compiti i compiti in maniera responsabile con i vari Berchi, Ceraschi che sono giocatori di esperienza a suo livello Ti faccio una domanda secca può essere ancora in Serie B ovviamente una sorta di americano come era ai tempi della Forlì del 2010? Ma guarda noi ce lo auguriamo perché il Frasso è un ragazzo di Forlì che ci ha fatto divertire e ha dimostrato di poter stare ad alti livelli ricordiamo che ha giocato anche in Serie A1 con Reggio Emilia quindi è un giocatore diverso rispetto a quello che è partito da Forlì dopo la promozione sfiorata da protagonista contro la Fortitudo dove era comunque la punta di diamante di una squadra diretta da Di Lorenzo quindi io mi auguro che possa essere protagonista e possa aiutare Cesena a raggiungere l'obiettivo Perfetto grazie Valentino altre notiziole ad esempio dei Tigers c'è Vicenza che sarebbe in pressing su Andrea Daniello vedremo cosa succederà vi ricordate Nicolò Basile che ha giocato a Forlì ha firmato in Serie C Golda ad Altamura De Zardo da Ferrara è andato in B a San Severo ma in Serie A Luca sono successe in Serie A2 sono successe cose molto importanti proprio oggi Demis Cavina non è più allenatore di Udine Udine decide di cambiare guida tecnica verrà Martellossi insomma è diciamo scusate l'espressione non proprio fine la prima testa importante che cade insomma questa sì il presidente di Udine non è noto per essere uno tranquillo nel senso magari ha lasciato passare qualche risultato che non gli era andato giù ma a un certo punto ha deciso di cambiare un notizio ho visto anche Poletti di ritorno a Verona da Siena che potrebbe essere un è brutto da dire però supermarket per tante squadre perché di nuovo è in difficoltà con i pagamenti e quindi Forlì ancora non ha tesserato Giacomo Signorini che si allena con Forlì vedremo se questo tesseramento verrà fatto oppure no Ravenna sta ferma? Ravenna probabilmente si guarda intorno sicuramente non è una società che almeno credo che vada a a forzare un trasferimento cioè andare a comprare un cartellino quindi aspetta nel caso il mercato degli svincolati o cerca un playmaker scontento dal suo ruolo in altri luoghi che però possa svincolarsi chi lo sa tu la faresti in operazione in questo momento? io probabilmente con budget infinito la farei non li metto i soldi quindi in questo modo ci stai attento esatto Luca per te sono alcune domande dei nostri telespettatori sì infatti c'è Pietro che chiede cosa ne pensi del coach dell'ora sì e diciamo che questa è la stessa domanda che ti fa un altro telespettatore chiedendoti quali caratteristiche preferisci di coach Mazzon e ancora grande bolla il tuo video timelapse della settimana scorsa è pura poesia ringrazio per i complimenti cosa penso di coach Mazzon secondo me è difficile in alcuni casi distinguere gli errori individuali degli giocatori da una partita magari preparata non al meglio è capitato magari in casa con Verona di vedere i primi due possessi passare dietro su un pick and roll di Amato che è una cosa che non dovrebbe succedere lì tendo a pensare che non sia l'allenatore che ha preparato la partita passando dietro su un pick and roll di Amato ma che sia un errore del marcatore in quel caso mi pare la ganata tra l'altro in altri casi magari a me piace spesso penso che l'uscita dal time out sia un un giudizio che spiega un po' l'allenatore e non sempre Ravenna esce in maniera esce dai time out in maniera soddisfacente magari esce con l'ennesimo isolamento di Smith o l'ennesimo isolamento di la ganata mi aspetterei magari un po' più di utilizzo di Airston che ha un'ottima efficienza secondo me sia in difesa che in attacco anche se non si notano la personalità di andarsi a prendere dei tiri ma gli si potrebbe cercare di dare più tiri perché Smith prende più del doppio dei tiri di Airston e diciamo mi pare abbia 18 tiri di media 21 punti e mezzo comunque non è una percentuale così eccellente a proposito di Smith e dopo tutta questa tecnica c'è Andrea che dice Bolognesi vogliamo vedere un'azione tua al posto di Smith meglio di no meglio di no però Luca una slide abbiamo preparata su un tema che in parte è già toccato cioè la differenza di rendimento di Ravenna io mi sono focalizzato su case e trasferta perché obiettivamente c'è ed è tangibile nei numeri quest'anno ancora di più quest'anno soltanto sono due le partite vinte fuori casa a fronte di sette perse quelle di Piacenza e quella di Imola gli anni scorsi sono sempre state molte di più lo vedete anche dai numeri che vi ho proposto cosa cambia soprattutto diciamo tra rendimento al palla di Andrea e rendimento fuori casa ma essendo una squadra che paradossalmente per quanto sia nata da una squadra da corsa è diventata una squadra che rende meglio quando riesce a ragionare i tiri in attacco e a essere dura e solida in difesa in casa sicuramente è più facile essere duri e solida in difesa A per l'arbitraggio B per tanti altri fattori per le percentuali degli altri e per tanti fattori in attacco sicuramente il sostegno del pubblico aiuta a non perdere i binari cosa che è abbastanza facile per questa squadra perdere i binari del buon gioco il rapporto assi spalle perse è forse il peggiore di tutta la 2 sicuramente in casa anche se fai tiri un po' peggio costruiti sicuramente i percentuali migliori e sicuramente tratti un po' meglio la palla in casa e Ravenna giocherà in casa Malpala Cattani di Faenza sabato sera alle 20.30 contro una Cagliari che è in crescita esponenziale perché non solo ha vinto con Forlì ma ha vinto anche con Roseto l'ultimo turno l'ultimo turno vi ricordo una cosa che i tifosi di Ravenna abbonati possono recarsi in sede e anche al bottiglino a Faenza il giorno della partita ma preferiamo in sede così avete il vostro biglietto comodi tranquilli se siete un abbonato avete un vostro amico che non lo è che vuole venire a vedere la partita a Faenza portatelo con voi pagherà 5 euro non solo se siete abbonati se siete abbonati scusatemi ma se siete anche uno sponsor e volete portare un vostro amico se siete un genitore di un ragazzo delle giovanili e volete portare un vostro amico e siete anche abbonati però in questo caso insomma iniziativa promozionale importante per avere seguito anche a Faenza in questo match importante in casa contro la Herz Cagliari una domanda però a Lawson la voglio fare su sollecitazione di quello che ha appena detto in precedenza Luca parlando di allenatori ha parlato Luca di Mazzon Kenny Valli ti ha voluto fortemente quest'estate ti ha fatto sentire al centro di un progetto uno dei motivi per cui tu hai scelto Forlì ti voleva anche la fortitude lo sappiamo però Valli ti ha voluto in maniera veramente ferrea e ferma insomma com'è il tuo rapporto tecnico anche e personale con Giorgio Valli ma non c'è molto da dire è molto buono tutto ciò che mi chiede di fare io io lo faccio e cerco di fare sempre del mio meglio lui e Renato hanno costruito una bella squadra hanno fatto un ottimo lavoro e ciò che stiamo facendo tutti insieme dimostra che c'è stato tanto lavoro non solo da parte di Coach Valli ma anche da parte di Renato Pasquali differenze proprio a livello di impostazione del gioco tra Valli e il tuo precedente Renato Rabologna Ramagli è difficile dare una risposta mi ricordo che qualcuno me l'aveva già chiesto e io avevo risposto che a Bologna giocavamo più come sistema mentre invece a Forlì giochiamo sì come sistema ma abbiamo più libertà ma la ragione è che la dinamica nella nostra squadra abbiamo delle persone che sono molto brave nell'uno contro uno c'è tanto talento e quindi è difficile dire se c'è una differenza tra due coach quando abbiamo quando poi strumenti delle squadre diverse ma per la squadra che abbiamo credo che Coach Valli stia facendo un ottimo lavoro mi diverto a giocare nei suoi schemi e ciò che stiamo facendo fino adesso lo dimostra perfetto grazie Kenny perché la cosa è molto interessante anche perché si parla tantissimo di Giorgio Valli nel bene e anche nel male come sappiamo questa è l'opinione di Kenny Lawson Junior sul sistema di Giorgio Valli andiamo a salutare altri partner Francesca sì Enrico è ora di andare un po' in vacanza rilassarci un po' dopo aver parlato poi della California io penso che sia arrivato il momento di lanciarci in viaggio ma con chi? con Viaggi Fortuna perché da oltre 40 anni Viaggi Fortuna accompagna i suoi clienti alla scoperta del mondo e quindi perché non affidarsi ad assoluti professionisti che ti faranno risparmiare tempo fatica e anche denaro l'agenzia che trovi a Forlì in corso Garibaldi 42 e in via Edison 1 ti assiste nella scelta del viaggio fatto su misura per te con uno staff di 14 esperti affidabili ed appassionati che ti guideranno passo a passo per pianificare la tua trasferta di lavoro o la tua vacanza da sogno ed è proprio questa che oggi Viaggi Fortuna ci consiglia una settimana da sogno con Vera Tour in uno dei villaggi più belli del Mar dei Caraibi il Vera Club Canoa nella Repubblica Dominicana è situato davanti alle meravigliose isole di Saona e Catalina potrai rilassarti su spiagge bianchissime immergerti in acqua cristalline gustare i sapori ammirare i bellissimi colori dominicani e soprattutto ti potrai divertire l'inconfondibile stile Vera Tour ti offrirà tutto questo assistenza animazione e cucina rigorosamente made in Italy prenota subito la tua vacanza in Repubblica Dominicana anzi prenota prima sì perché questo è il titolo della speciale promozione di Vera Tour con sconti fino a 400 euro a coppia che Viaggio Fortuna ci propone e se prenoterai entro il 7 febbraio l'agenzia forlivese ti regalerà un ulteriore sconto di 100 euro non perdere tempo approfittane perfetto Francesca beh direi che ci spostiamo di poco da un viaggio a un altro sì infatti andiamo con i nostri amici di Basketball Stars Camp che portano tutta Forlì e i giovani cestisti romagnoli direttamente a scuola negli Stati Uniti se volete vivere una vera esperienza americana a 360 gradi visitando New York e Philadelphia giocando sui playground più famosi del mondo e affinando le vostre abilità tecniche al Sixers Camp il camp estivo della squadra NBA dei 76ers ora potete farlo facilmente e a costi accessibili Richard Lally e il suo Basketball Stars Camp offre infatti ai ragazzi dai 12 ai 18 anni la possibilità di vivere il sogno americano in un tour didattico di 15 giorni più precisamente dal 9 al 23 luglio tra i miti della palla spicchi i college e le bellezze di due metropoli potrete affinare la lingua confrontarvi con ragazzi da tutto il mondo giocare e allenarvi con uno staff di tecnici qualificati tra cui Simone Pieric che vi accompagneranno dall'Italia e che troverete negli States per seguirvi attentamente 5 giorni nella grande mela tra escursioni divertimento e shopping e 10 giorni a Philadelphia di cui sei al Sixers Camp per imparare giocare in 12 campi al fianco di istruttori e stelle del basket e portarvi poi a casa premi un attestato targato NBA e un ricordo indelebile visitate il sito www.starcampforlì.it per le tariffe e il programma dettagliato e contattate oggi stesso Richard scrivendo a richardlelli chiocciolalibero.it o telefonando al 349 00 64556 Perfetto Francesca ti faccio riprendere fiato però dopo mi legge una o due domandine veloci dei nostri telespettatori io chiedo però Valentino Piolanti Valentino Forlì domenica dopo la vittoria di Verona è chiamata a una gara contro Iesi qualcuno potrebbe pensare sia una gara facile dopo la sconfitta pesantissima di Iesi a Piacenza per il sottoscritto non lo è per niente una gara facile anche perché Iesi ha preso Maspero adesso da Verona potrebbe anche cambiare americano si parla di Preston Knowles al posto di Andre Jones vedremo se riusciranno a perfezionare entro venerdì l'operazione però di sicuro non sarà una partita così semplice Allora secondo il mio punto di vista andare a Iesi pensando che possa essere più facile perché arrivi dalla vittoria di Verona è il più grande errore che una squadra possa fare e io credo che Cosvalli in settimana abbia o lo farà sicuramente rimarcato il fatto che la squadra di Forlì deve andare a Iesi come se fosse una neopromossa che si deve andare a giocare dei punti salvezza a Iesi sarà un ambiente non ospitale descriviamolo così sempre correttissimo però non ospitale e non è mai stato storicamente un campo facile e non lo sarà neanche domenica anche se dovrebbero dovrebbero cambiare come hai detto tu l'americano infatti vedremo se appunto non lo saverete salato in tempo Francesca due domandine veloci sì allora ha sodato l'impatto che possono avere Marini e Oxiglia all'appello manca ancora Donzelli? Donzelli sta facendo un lavoro molto prezioso secondo me dal punto di vista difensivo della solidità dei rimbalzi non è certo tra i principali fari dell'attacco forlivese che ne ha altri ma secondo me Donzelli sta facendo assolutamente bene ultima domanda per Luca Bagli è sempre stato molto criticato ma con un roster di livello sta ottenendo buoni risultati potrebbe essere lo stesso per Mazzon nei prossimi anni questo lo scrive Achillone Reale da Ravenna beh è il discorso un po' che facevo prima su Mazzon che è un un allenatore che sicuramente ha bisogno del suo tempo per plasmare diciamo la squadra può darsi che qualche scelta in estate anche sua o della dirigenza non sia andata come si aspettavano il progetto è triennale lo dichiara anche la società molto spesso quindi vediamo vediamo solo il tempo dirà se se Mazzon avrà ragione lo tolto perfetto Francesca però ancora con l'Oson abbiamo qualche curiosità e hai qualche curiosità da togliere si Kenny riprendiamo la nostra chiacchierata perché adesso ci addentriamo nella tua carriera perché so che dopo il college hai letteralmente girato il mondo perché sei stato in Cina Israele Corea del Sud Stati Uniti e Spagna fra tutti questi posti quali sono stati quelli più strani e perché? i posti più strani beh i posti che ho avuto più problemi forse tra la Cina non mi piaceva il cibo per niente lo staff medico non era quello a cui ero abituato la barriera linguistica la cultura diciamo che ho avuto delle difficoltà ma ma quando si gioca per la prima volta all'estero è bene partire piano perché adesso gioco in Italia da diversi anni e mi sento come a casa e quindi il posto in cui sei stato meglio di tutti questi tralasciando l'Italia beh direi che è un pareggio tra l'Italia e Israele in Israele il tempo è bellissimo il clima è bellissimo ma in Italia cibo è migliore mi piace molto la mi piacciono molto i campionati di A2 e di A1 sono molto competitivi e infatti a proposito di cibo so che sei molto attento all'alimentazione perché quando sei a tavola mi dicono i tuoi compagni che mangi rigorosamente pasta senza glutine e mi hanno anche detto che hai provato anche la cucina vegana poi ti è piaciuta o no che non lo sappiamo no 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 in realtà la odio sono stato vegano sono stato vegano sono vegano da tre mesi diciamo ma non mi piace ma è una decisione che ho preso per il basket per rimanere in salute quindi continuerò ma mi piace mangiare un bel piatto di pasta una bella bistecca invece dell'insalatina le verdure eccetera e poi io so che tu ci aggiungeresti anche qualcos'altro perché sei un grande amante del tabasco che lo metteresti ovunque mi hanno detto sì quando si mangia tante verdure quando si mangia tante verdure cose che non si vogliono mangiare bisogna un po' speziarle bisogna un po' insaporirle quindi il tabasco per me è importantissimo ottimo allora dal mondo che hai girato sei poi arrivato nel 2014 qui in Italia principalmente a Recanati da Recanati poi sei andato a Bologna per due anni per poi giungere qui a Forlì so che a Bologna hai avuto come DS Julio Trovato che adesso si trova a Ravenna hai per caso qualche differenza da fare da dirci con Renato Pasquali? No, ma non molto sono entrambi degli ottimi direttori sportivi una cosa che mi piace di entrambi è che ci sono molti general manager nel basket che cercano di mettere troppi paletti si preoccupano troppo della squadra mettono tanta pressione sui giocatori sugli allenatori una cosa che mi piace di Julio e di Renato è che ti danno la libertà di fare il tuo lavoro e questo ci toglie tanta pressione e quindi siamo anche più fiduciosi nel nostro lavoro e in questo modo si gioca in una squadra con Julio e Renato e giocare in queste squadre per me è stato veramente un sollievo allora io ti chiedo questo ultima domanda perché se no qui sforiamo un po' troppo anche se di cosa da chiedere io ne avrei tantissime altre il 18 settembre Kenny tu compirai 31 anni per cui ti chiedo come vedi la tua carriera futura nel basket c'è un luogo dove in particolare vorresti andare a giocare o magari ti vedi giornalista beh non posso dire dove andare la mia carriera in futuro sinceramente non lo so ma non sarei sorpreso se chiuderesti la carriera in Italia perché comunque mi piace molto qua ho avuto degli anni bellissimi ma ho un luogo in cui vorrei andare a Dubai e spero che il basket mi ci porti perfetto beh ci porti anche noi due anzi anche Luca e Valentino andiamo tutti insieme a Dubai magari esatto assolutamente bene siamo in chiusura Francesca ti devo chiedere questo il nostro quiz che non era semplice di la settimana ha un vincitore ha un vincitore sì che ce l'ha perfetto allora 20 secondi salutiamo gli ospiti vi diamo il nome poi non perdetevi la sigla di Per Paolo Marini con tutti i suoi canestri ma tra poco se per ti lo sport è tutto corri dove trovi tutto per lo sport da Sportacenter a Cesena una vastissima scelta di scarte abbigliamento attrezzature per lo sport e il tempo libero con i marchi più amati e di qualità come Mizzuno e i suoi innovativi modelli di scarpe da corsa Sportcenter e anche Teamwear fornitore unico delle divise ufficiali Mizzuno del Cesena Calcio a Pieve Sistina di Cesena in via Ricasso di 43 o comodamente a casa tua sul sito e-commerce www.sportcentercesena.com Perfetto Allora Francesca chi ha vinto il nostro quiz il nostro video quiz con la canzone dei Red Hot Chili Peppers legata a Magic Johnson Ha vinto Alberto Agnoletti Enrico Perfetto Alberto ha indovinato le risposte ed erano la numero 1 Boston Celtics nel 68-69 Esatto La numero 2 il numero di assist distribuiti da Magic nei playoff 2346 il record ancora imbattuto e il soprannome che i suoi compagni gli davano era Buck questo è il soprannome appunto di Irvin Johnson Detto questo Francesca ci tocca ai me salutare i nostri ospiti Esatto noi ringraziamo Kenny Lawson per essere stato qui con noi Grazie 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 anche a Luca Bolognesi Grazie a voi Grazie a Valentino Piolanti Grazie a voi Grazie a te Enrico Grazie a te Francesca e adesso tutti i 34 punti in musica e parole e magia dei canestri di Pierpaolo Marini a Verona guardiamone insieme Buona serata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti